Chiudiamo con il segno dei pesci, per voi amici dei pesci questa è una buona notizia quella di Marte nell'amico segno dello scorpione, parla di occasioni che arrivano da lontano, parla di notizie in arrivo per quanto vi riguarda, notizie che possono riguardare anche la vostra carriera e certo con questo Marte adesso voi diventate anche un po' più spregiudicati, una spregiudicatezza che può pagare nel vero senso della parola per quanto riguarda il vostro lavoro, però attenzione invece ai rapporti di coppia e all'amore perché potreste in qualche modo sbagliare anche delle valutazioni o farvi trascinare troppo dalla passione.